In tutta la scrittura c'è una sola volta nell'Antico Testamento in cui si fa un atto di fede in qualcuno che non sia il Dio di Israele. Una sola persona riceve questo atto, è Mosè. Quando dopo la Pasqua il popolo crede in Dio e crede in Mosè, questa è un'espressione molto forte. Ecco, dietro il Vangelo di questa domenica c'è anche questo sottofondo perché noi abbiamo questa scena in cui Gesù ha attraversato il mare dopo la moltiplicazione dei panetti e dei pesci scappando alla presa del popolo che lo voleva far re, che gli voleva dare potere e si trova di là dal mare e viene inseguito dalla gente e gli chiedono «Oh, ma quando sei venuto qua? Qui non ci puoi scappare di mano qui, quando troviamo uno che ci ha da mangiare questo deve stare a nostra disposizione, deve stare sempre in movimenti conosciuti dentro percorsi di cui sappiamo la locazione». Ecco, Gesù va al cuore del discorso subito. Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, cioè avete preso la realtà come una realtà simbolica, significativa, che ha qualcosa dentro, non è semplicemente un fatto, ha dentro un mistero, ha dentro un segreto da cogliere, ma perché avete mangiato i pelli e vi siete saziati? Ecco, questo è un cibo che non dura, voi state faticando per una cosa che non è la più importante, allora parlerà di questo fatto che c'è il figlio dell'uomo che darà un pane, che rimane per la vita eterna e c'è il padre, questo discorso non è del tutto chiaro, allora questi inseguitori di Gesù gli dicono «Ma che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Come possiamo entrare in queste cose qua? Perché qui noi stiamo abbondanti, stiamo contenti, stiamo a pancia piena e noi vogliamo stare in queste robe qui, ci piace questa roba» e lui dice «No, il problema è credere in colui che gli ha mandato». E allora ecco qui il sottofondo di quell'antico testo pasquale in cui la fede addirittura è stata rivolta anche al condottiero di Israele, al pastore che era Mosè, che è un'antica immagine di ciò che succederà con Gesù Cristo, dice «Ma quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai?» E noi appunto stiamo andando bene, se permetti, i nostri padri hanno mangiato la mano nel deserto e noi stiamo andando appresso al pane, scusa, ti stai lamentando perché noi non stiamo muovendoci bene? Beh, noi veramente stiamo come il popolo ebraico, come i nostri padri, e noi stavamo seguendo la nostra necessità di mangiare. Ecco, se noi andiamo a vedere la prima lettura, c'è la storia di quando il popolo riceve il pane da mangiare al capitolo sedicesimo dell'Esodo e tutto questo nasce da una mormorazione, tutto questo nasce da una mancanza di fiducia. Proprio quel Mosè in cui poco prima hanno manifestato fiducia, una fiducia altissima, ecco questo Mosè si sente dire dal popolo «Fossimo morti per mano della Signore nella terra d'Egitto, quando stavamo nella schiavitù era meglio stare lì, era meglio morire in Egitto piuttosto che essere liberati, perché? Perché abbiamo fame». Allora, qual è la realtà che dimentica il popolo, mentre sta parlando con Gesù nel capitolo sesto di Giovanni, che tutta quella storia del pane era la storia di un braccio di ferro fra la mormorazione e la fede, di una apertura che era sempre incompleta, un consegnarsi ma non fino in fondo, aver visto una cosa straordinaria come l'apertura del Mar Rosso, aver visto la potenza di Dio sull'esercito straordinario degli egiziani e di fatto subito dopo non essere sicuri, non fidarsi, veramente noi siamo questa cosa qua. Che cos'è questo cibo che perisce? Noi normalmente leggiamo questo testo nella chiave del problema del pane, di ciò che vale, no, il cibo che perisce è la nostra fede che perisce, è questa fede basata sulla nostra deduzione. Sto bene? Credo. Sto male? Non credo. Sto secondo una cosa di cui intendo la logica? Allora, sto contento, va bene, andiamo avanti così, benissimo, ottimo, un applauso. Sono contento. No, adesso questa cosa mi frustra un po'. No, aspetta, non capisco, cioè perché scappi? No, non ci piace. O perché oggi non ho da mangiare? Allora già non credo più. I bambini sono così, i bambini sono legati all'istante, cosa che perisce, quello che non dura, cosa che non dura. Ecco, i bimbi non hanno la capacità logica di collegare l'estensione della concezione del tempo. Il tempo è tutto adesso per i bambini. I bambini hanno questo momento come l'assoluto. Cosa succede? Che se in questo momento io ho godimento, sono felice. Se mi togli il giocattolo, perché per qualche motivo me lo devi togliere, forse perché magari è pericoloso, io ho una tragedia totale, io non ho più nessun appiglio, i bambini piangono disperati. Uno gli dà un'altra cosa e sparisce di colpo il dramma e tornano contenti, senza nessuna memoria di quello che è successo un attimino prima. Ecco, questo è ciò che non dura. È ciò che va secondo gli appetiti. È l'assolutizzazione di una pulsione. Mangio uguale credo, non mangio uguale non credo. I nostri padri hanno fatto così. Ed è questo il punto. Saltare. Non è possibile che il Signore costruisca qualcosa di stabile, di vero, di autentico, di profondo in noi se non iniziamo a disincagliarci dalle nostre sensazioni, dalle nostre sazietà e se non iniziamo a relativizzare i nostri appetiti. Non è possibile che un uomo sia semplicemente il suo appetito. Non è possibile che un uomo non si apra a qualcosa di più grande. Una persona umana porta in sé una capacità di relazione con Dio, con l'Eterno. Ed è lì che si compie come persona. Mosè doveva stare appresso a questa logica incompleta di discontinuità totale del rapporto fra Dio e il popolo. Un'alleanza che non durava mai, che veniva continuamente rotta e tradita. Perché? Perché l'assoluto era il momento. Ecco, Cristo si è incarnato e il figlio dell'uomo viene a dare continuità a questo. Voi mi cercate perché avete mangiato. Dice, iniziate a andare oltre. Andare oltre. Come farà Dio essere il centro della nostra vita, essere il Dio della nostra vita e compiere le sue opere in noi e non semplicemente la risposta ai nostri appetiti se non iniziamo un pochino a consegnarci quando abbiamo fame e quando la soluzione non c'è subito. E' quello il momento della fiducia. Di fatto, il giorno prima, Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci. Questo giorno non lo farà. Questo discorso che fa nella sinagoga di Cafarnao e che continueremo ad ascoltare anche nelle prossime domeniche è un discorso che lui pone come più importante di una ulteriore moltiplicazione dei pani e dei pesci. Forse non sempre è stato notato che questa gente voleva altro pane e che Gesù gli fa un discorso. Quante volte? Tutto quello che vogliamo è altro pane e non crescere. Altro pane e non dare continuità. Altro pane e non entrare nel rapporto con Dio. non è possibile per noi avere qualcosa di veramente, autenticamente profondo, risolutorio che fa sbocciare il nostro cuore nella vita adulta, sana, matura, bella se non possiamo fare questo salto oltre il pane oltre quella materia che è l'appagamento che cerchiamo come daremo da mangiare agli altri come potremo occuparci degli altri se il nostro stomaco è un assoluto se il nostro benessere è un assoluto come faremo a vincere in questa epoca dove siamo schiavi del comfort dove siamo rintontiti di benessere se non sappiamo disobbedire a questa logica